ma quanti siamo? tanti eh? siamo a 27 moto, i tuoi amici di assi sono già andati via, perché? eh, loro avevano un po' di fretta, hanno visto tutto questo casino, c'era quello con il T-Max e quello con il tuo caso? eh, per caso, primo, non conosci quello con il T-Max? Sì, fai il tuo figlio, c'è bello, c'è sempre tanti così, vai, ci sono i Giancarlo, i Margo, la memoria da 1030, sì, lo rispettiamo di tre, caro, e io non c'è via, c'è via, c'è via, c'è via, vai, 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 niente, eh, c'è via, 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 via, c'è 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 via, c' via, c' via, c' via, c' un picco e tre ho filmato pure in vita non sembra dai gli do tutto poi a Dan carichiamo poi tutto insieme Gian quanti siamo hai contati? 26 26 sono tanti è un bella avete visto le marmotte che belle? oh ma io ero lì e poi gli segno a chi è che l'era Andrea da me Peter Pennarello grazie 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 grazie